Salve a tutti, bentrovati. Oggi sono così tutta un po' brillantinosa, una sbirluccica per voi, perché vi sto per presentare un testo che ho scoperto molto per caso. Conoscevo i Aspers e conoscevo naturalmente Leonardo da Vinci, le sue opere pittoriche, così come le sue invenzioni di scienziato e i prototipi, ma non conoscevo per nulla questo testo di Aspers intitolato Leonardo filosofo. Il titolo mi ha colpito talmente, perché è vero, Leonardo è un grandissimo genio di tutti i tempi, però addirittura filosofo in questa veste non me lo immaginavo. E quindi questo testo è davvero una bomba, allora ho voluto per questo presentarmi con questo look molto brillante. È l'ennesima sfida per riuscire a presentarvelo senza tradirlo con operazioni riduzionistiche, perché chiaramente il libro in sé non è molto lungo, però è molto ricco, è molto denso e quindi lo spazio di un video, voi capite, non è facile nei tempi, nelle tempistiche. È un saggio davvero affascinante che io comunque proverò a presentarvi, perché scatturisce da interpretazioni naturalmente che i Aspers darà su Leonardo. Lo mette sotto una luce insolita, naturalmente, inaspettata e intrigante, quindi tre i, il trionfo delle i. Partirei dalla fine. Anche qui ho pensato un po', mi sono un po' scervellata e nel poi costruirlo mi auguro che questo partire dalla fine sia ancora più intrigante. Allora, intanto la domanda è in che senso filosofo? Cioè, in una cosa, però, la sua incomparabile, incomparabile grandezza appare manifesta, sovrastorica, nella sostanza di quella totalità da cui discendevano tutte queste ricerche, che è la creatività, la creatività artistica, è anche unita questa nella cognizione del mondo come scienziato. Quindi lo scienziato, il tecnico, l'artista, sono, costituiscono un unicum, una realtà unica. E' sempre libero questo grande genio di tutti i tempi di sondare, di esplorare la realtà che lo circonda. Questa unità la si può chiamare Leonardo filosofo? Ove si intende, qui entriamo subito nel merito, dove si possa intendere la filosofia non già un ramo delle scienze, non già una dottrina compiuta in sé, epistemologica, bensì come, in senso più largo, più ampio, come una conoscenza, come una conoscenza universale, una predisposizione a questo conoscere universale, che via via prende sempre più consapevolezza di sé, come una sorta di forma vitale, perché? Perché al di sopra dell'arte, della scienza, del dipingere, del costruire, vi è l'unificante spazio spirituale, a cui, diciamo, tutte le cose tendono. Ecco, in questa ottica lo si deve intendere in questo testo di Jaspers. E Leonardo era filosofo, ci dice Jaspers, come lo era Goethe. Questo accostamento, ancora ancora, allo scrittore tedesco, può sembrare peregrino, ma non lo è. Seppur inizialmente mi è parso molto ardito. Vi sono una molteplicità di temi che lo riconducono l'uno all'altro, cioè uno ha... proprio, vi sono delle tematiche che si riallacciano sia al pensiero, diciamo, di Leonardo, come allo scrittore Goethe. e una di queste è proprio la relazione macrocosmo-microcosmo. E da questa armonia anche dell'arte e della scienza, e di questo filosofo, diciamo, emblema di filosofo-poeta, a cui tutti e due, entrambi, ambiscono, si richiamano, si rifanno. E in Goethe, però, attenti, è presente, secondo Jaspers sempre, un dinamismo qualitativo, genetico, di forma, idea, che lo discosta da quel metodo scientifico del rapporto causa-effetto, e quindi dall'ambire a quel frutto matematico nel quale, invece, Leonardo vede il dispiegarsi di una somma certezza. E infatti io, studiando al liceo scientifico, naturalmente l'ho conosciuto ancora prima che come pittore, proprio come scienziato, nell'ambito di questo metodo scientifico, di questi studi di osservazione della realtà, studi anatomici e anche tecnici, quelli che sono tutti i suoi prototipi delle sue macchine. Leonardo vede il dispiegarsi proprio, quindi, nel frutto matematico, della somma certezza. E invece, tornando a Goethe, Goethe, diciamo, rispetto alla matematica, non è che, diciamo, la metta da parte, ma è più decisivo di quanto non lo sia il Leonardo, e anche per entrambi, comunque, è importante la comprensione visiva. Per Leonardo c'è questa importanza del disegno, della formula, della ricostruzione ideale, e per Goethe vi è il linguaggio, come espressione del sapere, della ragione, ma anche dell'arte, della poesia. E diciamo che Leonardo diventa proprio l'organon della filosofia, questo elemento visivo. La pittura, quindi, la scrittura, l'indagine dell'uomo, riconducono ancora una volta a una totalità che precede tutte le separazioni, tutti i distinguo. Tuttavia, diciamo, l'attuazione di questa totalità è per l'uomo impossibile nella sua interezza, vi può ambire, ci può essere uno slancio alla totalità, ma non certamente un raggiungimento totale, perché l'uomo è imperfetto, è limitato. E allora sentite queste parole. Sono stati mossi molti rimproveri a Leonardo. La sua intera vita sarebbe stata casuale soggettività. Egli non avrebbe mantenuto le sue promesse, deludendo così i suoi committenti. Il suo lavoro sarebbe stato guidato dal capriccio. Sempre nuove attività lo attiravano, ma finiva sempre per abbandonarle, senza mai portarle a compimento. E i metodi scientifici sarebbero privi di struttura logica, altrettanto soggettivi e casuali, come tutto il resto. Vedete, queste erano le critiche riportate in modo, diciamo, piuttosto duro. Un dato di fatto evidente è che Leonardo era frammentario. però adesso andiamo a vedere cosa ne pensa Jaspers. Diciamo che la congerie dei manoscritti e dei disegni testimonia in vero il suo enorme lavoro. E non era inconcludente, naturalmente. Non si può dire che Leonardo fosse un uomo inconcludente. Ma nessuno scritto fu portato a compimento. Né già esteticamente sviluppata l'anatomia con le sue centinaia di disegni, né i piani dei suoi scritti geologico-cosmografici, né l'enciclopedia del sapere, forse, diciamo, anche solo abbozzata. E il trattato di pittura è stato messo insieme dopo la morte, con un titolo che non è di Leonardo. Quindi, vedete, il problema è dunque perché Leonardo rimase così frammentario? Cioè lui, un genio, così intelligente. Perché? L'opinione secondo la quale egli si sarebbe disperso, perché lunatico, è contraddetta dall'ostinazione e dall'estrema esattezza del suo lavoro. Qui anche il libro è corredato proprio dagli studi anatomici e dai disegni che Leonardo fece. E quindi questa totalità era, ed è infatti, totalmente imponente da superare la misura di ciò che può rientrare in una vita umana. E quindi lui, lui lo testimonia proprio anche attraverso questo suo lavoro. Questa totalità, quindi, rapisce Leonardo proprio da un punto di vista del suo contenuto spirituale. Il contenuto spirituale di ogni realtà che per rendere visibile occorreva trasformare in opera d'arte progettando immagini dello spirito. E per questo le sue energie si sono sempre mantenute fedeli, fedeli nella creazione, a questa costante volontà sperimentatrice di compimento. Mentre nella ricerca si sono concentrate proprio con una tribellante precisione anche sul minimo dettaglio. Ma non a lungo. Perché egli non vuole, non vuole rimanere prigioniero della limitazione. E quindi questo Leonardo così libero dai preconcetti mi ha davvero subito incantata questa mente, questa visione proprio che ci fai aspers di un ambiente ampia, larga estranea a concepire la totalità del mondo come un sistema concettuale. Egli afferra ogni possibilità senza però che si cristallizzi in un'opinione precostituita. Pensate che bellezza! L'infinito dettaglio dei fenomeni cosmi ci diventa per lui proprio il filo conduttore del suo esercizio di contemplazione. Di quel tutto che in ogni particolare si presenta ed è intuito come una sorta di vita universa e non soltanto ridotta diciamo a un mero meccanismo. Viene proprio descritto come un processo un flusso un riflusso. pare viene detto come il respiro del mare pensate mentre il calore vitale proviene dal fuoco e ogni cosa tende a conservarsi nel suo essere ma ma aspira altresì a a sottrarsi alla propria imperfezione e quindi è per questo che Leonardo si mantiene incompiuto nelle sue ricerche ogni cosa aspira in qualche modo a sfuggire alla morte e a questa forza invisibile che è presente a tutti i fenomeni si trova proprio nel conflitto tra l'energia dello spirito e l'inerzia della materia inanimata e questo appunto viene reso proprio come testimonianza del pensiero di Leonardo e delle sue opere se in questo conflitto la vita la morte dove la morte poi viene superata sempre da una nuova vita il conflitto stesso è indistruttibile è vita e morte e Leonardo è cosciente cosciente della caducità e del limite e di questo sgretolarsi di tutto quanto e questa è anche una cosa splendida per lui in questo mondo di forze dove primeggia proprio il sole questa stella vedete ho cercato di farlo brillare questo sole Leonardo appartiene alla schiera di coloro che esaltano questa stella suprema come Ghete e appare nelle sue profezie la descrizione pensate del corso del mondo esse procedono proprio nella direzione di una presentificazione del destino umano che si meraviglia che si interroga ancora una volta poesia e filosofia si intrecciano tra similitudini visioni analisi dello spietato agire dell'uomo anche elementi molto duri molto astri pessimistici vede ciò che essi hanno fatto alla natura pensate nel 1500 se vedesse ora come si potrebbe esprimere descrive la crudeltà dell'uomo e credendo di fuggire l'orrore gli uomini cosa fanno corrono ciecamente quasi come dissennati per strappare via quella parte che tanto più diventa grande quanto più si cerca di ridurla e il tempo e il tempo che consuma le cose veloce predatore e anche il nulla parla del nulla lo distingue dal vacuo che è divisibile all'infinito il nulla invece è indiviso non può essere meno di nulla filosofia questa certo scopriamo una visione cosmica che si realizza proprio mediante l'occhio la vista nel vedere pensante e lui si pone al cospetto della natura come dinnanzi a un mistero che si rivela all'infinito a colui che ha la forza di indagarlo come non rimanere catturati non solo dalle opere quindi di ingegno di pittura di questo uomo anch'esso universale ma da questa prospettiva da cui si evince proprio anche un infinito piacere legato al fenomeno e anche un'infinita afflizione per il corso del mondo lui lui non ci fornisce risposte si limita a porre delle domande e questo ancora è un altro elemento filosofico come solo un autentico filosofo sa fare e l'uomo l'uomo appare come un microcosmo potenziato nel tutto e egli è prodiciosamente potente e al contempo però anche impotente impotente innanzi al tutto della natura e potente invece nei confronti di se stesso pensate che bellezza tutto ciò e la matematica la matematica sta a fondamento della creazione prima dicevo il frutto matematico sembra qualcosa quasi che abbia un sapore prelibato il creatore è egli stesso un matematico e l'uomo imita produce l'uomo crea attraverso proprio la conoscenza e si spinge fino al fondamento del mondo la cui forza generatrice è per intrinseca natura parte della creazione artistica Leonardo come vi dicevo fin dall'inizio non vive in alcun sistema ma li utilizza tutti questi sistemi come strumenti espressivi e si differenzia da quei tipi proprio matematici così sistematici ma lo spirito leonardesco spazia secondo proprio secondo un atteggiamento che non giunge mai al termine della cosa come dicevo prima ma che tenacemente si esercita proprio perché c'è questa inquietudine dello spirito in quella disposizione cosmica di fondo che lo rende profondamente interessato alla realtà per ogni particolare e gode gode l'infinita gioia del contemplare e tutto abbraccia in una quiete serena e questa è questa la modernità di leonardo potrei anche fermarmi qui tanta materia come vi dicevo è denso questo libro tanta materia su cui riflettere per creare relazioni come piace a me tra filosofia e poetica tra discipline legate al logos e discipline artistiche dionisiache ma non posso non posso non presentare anche la visione di Valéry che è in qualche modo opposta a quella di Aspers e particolarmente accattivante per chi come me è innamorata proprio del ribaltamento quindi concedetemi ancora un momento per completare questa analisi con questo punto di vista di Valéry che poi lascio a voi approfondire naturalmente venendo a diretto con te con contatto col testo mi raccomando qui qui più che mai è necessario dare importanza alle note alle note un vero saggio nel saggio quindi state attenti gustatevele apparentemente appunto non è voluminoso ma al contrario questo scritto andrebbe letto con un'attenzione minuziosa e quante quante critiche leggo proprio legate al buon Leonardo e qui ancora una breve parentesi per arrivare poi a Valéry tutto ha un senso abbiate pazienza ma mi richiamo alle altre pesanti critiche la sua esistenza non poggerebbe su alcun terreno figlio illegittimo non avrebbe conosciuto alcun vincolo nazionale patrio familiare sarebbe stato cittadino del mondo ma come un individuo che vive là dove lo si paga senza appartenere a nessuno e senza alcuna fedeltà non si sarebbe sposato non avrebbe avuto amici soltanto protettori e scolari e alcuni uomini che lo veneravano e ignorava dunque ogni responsabilità mai avrebbe svolto una determinata attività ma si sarebbe soltanto incessantemente dedicato alla creazione di una qualche opera gli si è inoltre rimproverato di non aver avuto alcun interesse non solo per i problemi politici ma anche per quelli etici e religiosi nonostante molta inclinazione alla socievolezza nonostante la cerchia dei suoi stimatori nonostante gli uomini che si prendono cura di lui e lo amano egli rimane pensate per tutta la vita isolato senza che si sia mai sentito una parola da lui sulle sue sofferenze o sulla sua solitudine Leonardo fa parte per se stesso senza alcuna sicurezza e senza mai aspirarvi la coscienza che gli ha di sé è incrollabile e la chiarezza della sua natura non ammette che alcune delle forze in lui celate esercitino la loro potenza suo malgrado a onta di questa sua indole fuori dal comune non vi è lui alcune eccentricità malgrado la sua profondità non si è lui alcune rompere incontrollato di forze in tutto ciò che da lui procede incrollabile vi è la misura e la razionalità si avverte piuttosto la costante presenza del suo modo di essere nell'amore per le magnificenze del mondo nella pazienza e nella pacatezza Leonardo qui è bellissimo realizza un'universalità l'amore della quale al pari del sole appunto ancora ancora questa stella splende su ogni cosa e tale universalità ha solo solo un confine quello del contemplare attivo e la sua portata sta nel fatto che pur immergendosi nella storicità dell'agire non si lascia chiudere in alcuna limitazione quella di Leonardo non è dal punto di vista della concezione del mondo una battaglia contro la chiesa o contro contro le potenze politiche o contro la fede egli stesso non si sente legato ad alcun sistema di pensiero filosofico ma vive con uno sguardo sconfinatamente aperto a tutto quanto possa sopraggiungere quindi sentite quindi sentite questa parte è davvero qualcosa da assaporare per carpire la personalità proprio di di quest'uomo e si avverte proprio la costante presenza del suo modo di essere nell'amore per la magnificenza per le magnificenze del mondo ma sempre non un amore appassionato irruento ma paziente pacato e quindi adesso arriviamo a Valerie che a differenza di Jaspers come vi dicevo rovescia proprio il rapporto artista filosofo in Leonardo lo ribalta per lui infatti la sintesi di un vedere pensante si realizza come sintesi pittorica specchio della natura in cui l'ambivalenza qualitativa quantitativa la dialettica dell'anima mundi combinata con il tema della necessità matematica mettono capo questo frutto pittorico come opera magica come trasfigurazione del finito ecco quindi cos'è che primeggia primeggia questa attività pittorica la modulazione timbrica cromatica addirittura arriva a dire musicale di questo progetto per rendere proprio questa armonia di un mondo effusivo di divinità hanno determinato quella specie di chimera o di centauro o di mostro che è Leonardo da Vinci ci dice Valerie è precisa che la volontà di vedere e la volontà di potere stabiliscono tra loro una serie di scambi infiniti ma se poi volessimo andare più a fondo dovremmo dire che la cellula la cellula perenne proprio di trasmutazione sta nella pittura come magia universale ed è davvero singolare l'argomentazione di Valerie esposta per negare che Leonardo fosse un filosofo essendo la filosofia secondo lui inseparabile dal linguaggio della parola e non essendo e non essendo questo ancora tutto per Leonardo resta in lui certo un'attitudine intima indeterminata però suo malgrado secondo Valerie quasi inesistente perché per lui il filosofo e l'artista non si disgiungono si produce un'elaborazione puramente mentale ma non nella concretezza di un filosofare attraverso il linguaggio ma nella concretezza di un filosofare in atto che appunto è intrinseco all'atto di creare e lì nella pittura è lì la sua filosofia per Valerie Leonardo disegna calcola combina inventa sperimenta costruisce usando quei tramiti materiali per cui le idee proprio si misurano con le cose e quindi indipendentemente da ogni presupposizione cognitiva si intrinseca sono immanenti all'interno delle cose stesse oppure vi rimbalzano naturalizzandosi proprio nel nel ritmo stesso delle cose dovrei dedicare perlomeno un altro video al rapporto tra Valerie e Leonardo tra i cahiers di Valerie importantissimi opera magna e codici di Leonardo e ancora all'opera introduzione al metodo di Leonardo da Vinci in cui Valerie si interroga su come funzionasse questo cervello questo cerebro quanto fosse simile al nostro ma al contempo potenziato come un Ercole che è come ogni altro uomo però ha i muscoli più sviluppati ma tutto ciò davvero ora ci porterebbe fuori strada quindi non posso non voglio rimandiamo questo approfondimento e torniamo agli Aspers che distingue la logica razionale però attenti qui dalla logica filosofica sono due cose diverse quella razionale ci spiega ha un carattere analitico concettuale ed è secondo lui fondamentalmente statica quella filosofica invece costituisce una struttura dinamica in cui i concetti sono per così dire infieri espressi da un trascendimento che mantiene aperto proprio l'orizzonte sistematico e qui ci mettiamo in due concetti jasperliani jasperliani scusatemi molto particolari e importantissimi da tenere da tenere conto lo scacco e la frammentarietà e cercherò brevemente in chiusura di illustrarli il frantumarsi proprio dell'iter creativo conoscitivo di Leonardo in conseguimenti particolari che sono lasciati come dicevo prima incompiuti perché c'è questo soverchiante incalzare verso la totalità si mostra come uno scacco l'esistenza fra un naufragio jasperliani spiega quanto più grandemente e profondamente questo tutto vuole in un uomo divenire determinante tanto più deve naufragare quella volontà di realizzare il tutto perché è questo scacco a dare linguaggio alla verità e autenticità quindi il naufragio non è non è poi un semplice scacco di quello che era valido nella sfera del relativo inserito negli schemi della logica ma va inteso come vanificazione del mondo nel tentativo di abbracciare l'orizzonte quella totalità omnicomprendente perché il mondo come tale non può essere compreso per se stesso in base a se stesso non viene il mondo una verità immanente sicura assoluta e allora tutto il sapere di Leonardo naufraga nell'ascoltare e nel guardare l'essere in una sorta di sospensione magica ecco che ritorna anche Valéry lui lo riferisce soprattutto alla pittura mentre Jaspers lo pensa legato proprio al pensiero alla visione che Leonardo ha dell'essere continuamente in cammino del progetto di una conoscenza cosmica non intellettuale ma davvero esistenziale destinato alla delineazione di un concetto di verità come perpetuo scacco di fronte alla verità stessa e ora torniamo proprio così a busso sulla vita di Leonardo e come ha influito nel suo ambiente rinascimentale e come ci aiuta anche il pensare alla sua vita a collocare il suo agito il suo pensato il suo genio e anche il rapporto ad altri geni come Michelangelo è interessante davvero qui anche qui non ce la faccio a non farvene un accenno il rapporto proprio con Michelangelo come ha influito Leonardo nel suo ambiente abbiamo testimonianze della sua forza fisica del suo volto bellissimo come nessun altro e della dolcezza del suo carattere del soggiogante potere della sua compagnia della sua personalità grandiosamente libera sappiamo dell'affascinante influsso delle sue opere come proprio già al loro prima apparire fecero epoca nella pittura e si è avuta un'idolatria però un'adorazione per Michelangelo Raffaello mentre Leonardo per il quale tuttavia smaniavano il re di Francia e i numerosi aristocratici non ebbe in generale molti ammiratori pensate un po' a Firenze quando vi comparve Leonardo e Michelangelo la gioventù delirava per il più giovane per Michelangelo quando una volta Michelangelo in una cerchia di pittori gridò a Leonardo tu non fosti mai capace di fondere una statua equestre al tempo in cui quegli stupidi milanesi ti prestavano fede Leonardo arrossì e tacque sempre conservava la sua nobile compostezza a differenza di Michelangelo che nei suoi moti passionali smarriva ogni controllo Leonardo e Michelangelo sono due mondi che malapena si toccano Leonardo cittadino del mondo Michelangelo patriota Leonardo equanime nella pacatezza di una ragione sempre misurata nel suo movimento Michelangelo nei grovigli degli incanzanti passioni da cui prodigiosamente si innalza Leonardo l'uomo che mantiene il suo equilibrio imperturbabile in ogni passione distante e proprio Michelangelo invece come l'uomo dirompente smisurato nella disperazione divagante nell'impetuoso sentire si direbbe che Leonardo viva tetragono in una dimensione di quiete in chiarità e in mestizia Michelangelo invece sembra riconquistare se stesso in uno spazio continuamente attraversato da aspre vicissitudini di inabissamento e di slanci supremi Leonardo pare contemplare il mondo delle estreme possibilità umane intese alla fine soltanto come fenomeni naturali Michelangelo al contrario sembra consistere egli stesso in quelle nelle forze della natura quindi vedete come davvero in questa contrapposizione quante ne abbiamo viste ne abbiamo preso in esame in questo video ritroviamo proprio questo questo pensiero e questa forza da una parte nella passionalità di un Michelangelo ma dall'altro anche la forza del pensiero leonardesco che sta proprio nel fatto che non ingaggia delle battaglie contro la chiesa contro il potere politico ma si sente legato solo a se stesso è slegato da qualsiasi pensiero filosofico politico dalla chiesa vive con questo sguardo sconfinatamente aperto di contemplazione la lezione in qualche modo che cerco di trasmettervi di restituirvi è che Leonardo Jaspers ci offre proprio con l'aiuto proprio del pensiero una visione universale e Nietzsche ammirò parliamo anche di lui la grandiosità di questa universale lungimiranza leonardesca a suo giudizio Leonardo fu il solo tra questi artisti cioè tra Michelangelo e Raffaello ad aver avuto uno sguardo veramente sovracristiano Nietzsche lo annoverà tra quegli esseri pensate magicamente inafferrabili e impenetrabili quegli uomini enigmaticamente predestinati alla vittoria e alla seduzione sempre si avverte quel suo essere nell'amore per le magnificenze del mondo e il mondo vuole essere conosciuto e amato quel mondo muto che non risponde l'incessante attività di Leonardo consiste proprio nel non avere altro scopo che non sia quello di contemplare il mondo e rispecchiarlo nello spirito e nella virtù della fantasia raramente raramente nascono uomini che nel corso della loro vita erano nel mondo separati dai loro simili con il proposito però di guardare quel mondo e di comunicare ciò che hanno veduto e poi realizzano proprio e noi impariamo a vedere attraverso di essi e attraverso le loro opere ma questa universalità di Leonardo come si esplica secondo Jaspers non in senso enciclopedico ma come magari a scuola ci viene un po' detto ma come la ragione stessa di quella illimitata ampiezza di interessi di attitudini in cui si dispiega ogni ricerca la ricerca la sua frammentarietà non è in attitudine al compimento ma preserva la possibilità totale di un compimento ancora e sempre da perseguire e lo stesso essere frammento proprio implica una spinta verso ciò che ancora che ancora si può conoscere che non si è ancora fatto quel già fatto che si è realizzato apre al nuovo e allora Leonardo proprio presenta quello che l'incompiuto il non fatto come qualcosa che potrà essere fatto proiettato nel futuro come possibilità e allora si rende necessario abbandonarlo per aprirsi per aprirsi a un nuovo inizio per questo che abbandona il progetto per un altro perché ancora ancora c'è la speranza di un nuovo inizio di un nuovo cominciamento delle cose e quindi vedete che è molto è molto più di un procedere nello studio ma Leonardo realizza quell'amore e proprio nel sentimento non nella razionalità si apre a questa dimensione contemplativa gioiosa di questo amore universale che al pari del sole vedete brilla brilla è un contemplare attivo brillante seppur pacato seppur meticoloso e preciso e vi assicuro che sarà una gioia per tutti voi conoscere Leonardo un Leonardo appunto in questo testo peculiare per la sua indipendenza che sollevandosi sulla società sulla storia e anche se vogliamo trascurando l'una e l'altra però vive in accordo con l'infinita natura attraverso la visione la visione e attraverso le sue rivelazioni è un davvero gioioso lasciare che lui ci doni ciò che del suo vedere del suo ricercare del suo esistere ci alieta intimamente in quanto la sua opera davvero può essere considerata come una delle più mirabili proprio realizzandosi nella corporeità nella fisicità dello spirituale e nella spiritualità del corporeo e lui si rintraccia naturalmente la cognizione matematica delle regolazioni delle leggi matematiche però è associata sempre a una penetrazione nel particolare in quell'infinito dettaglio di un volto di un segno di una bocca di un sopracciglio di un petalo di fiore e la fantasia proprio apre al simbolico e Leonardo mediante la percezione sensibile tutta umana corporea ha saputo slanciarsi sempre appunto non lasciatevi diciamo trascinare dal mio spirito che è un po' più focoso ma lui sempre si è slanciato con misura con pacatezza con rigore ma anche con rinnovato entusiasmo nella ricerca dell'oltre e allora questo oltre la fisica è metafisica cos'è cos'è questo oltre risiede forse nell'incompiuto nel frammento l'oltre sta in una mente geniale sapiente in ogni cosa onniconfrensiva ma frammentaria mistero Leonardo è divenuto il mito di un di un mistero apriamoci a lui e al mistero che al contempo è in noi e nelle opere che ci trasmettono davvero queste opere leonardesche questo mistero insondabile almeno non sondabile fino in fondo grati per ciò che ci ha donato mostrato e insegnato davvero alla prossima namastè grazie a tutti